Ecco qui siamo con Sandro detto Sandrone conosciuta da tutti i frascatani per il suo modo eclettico di presentarsi e gli chiediamo come mai lui essendo un glotta ferratese invece viene sempre a Frascati. Io ho detto a Frascati perché ti spiego, c'è un marescello dell'Aronetica Militare che mi deve portare la risa, quella che portano ieri, quella verde oliva così che ha chiuso la lampa. Allora se lui me la trova mi viene a cercare, allora metti che se lui la trova io sto qui e lui mi viene a cercare e me la metto. Ma come mai ti piace Frascati? Perché qua Frascati, io sono andato a Grottafra dalla Bazzia Sanlino lì, a Corso non c'era nessuno, a Frascati per esempio tu sei amico no, c'è un amico come te allora a Grottafra non c'è sta nessuno, cioè metti in moto alle 9-5, già qui c'è sta gente a Grottafra non c'è sta nessuno, allora sto a Frascati perché c'è stato tanti amici che sono a Frascati. Ce lo dici anche se sei di Grottafra da viva Frascati? Viva Frascati! Grazie Sandro! In niente! Ciao! 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 Ciao!